Per settimane in città si è parlato solo di quanto belli sono stati i ragazzi a Campovolo. Un paio di amici mi hanno chiesto che cosa vuoi di più da loro. Niente gli ho detto. Sapete uno dei complimenti che mi fanno più spesso e che più mi fanno piacere? Luciano, tu hai il più bel pubblico di tutti. Basta guardarvi, è un dato di fatto. Sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. 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 Lui chiude i concerti dando speranza. E se un sognatore trova spazio in cui sognare, beh dopo il sogno lo vai a alimentare. Campovolo è un piccolo aeroporto nella nostra città. La città in cui viviamo da sempre e quindi anche quella da cui tutto è partito e a cui tutto torna. Se poi appena ti giri e vedi qualche musicista che ti ricorda la tua storia, allora sai che di sicuro, se c'è un concerto che parla per te, quello è Campovolo.